Temptation Island, le coppie nate GF Vip7 non sarebbero gradite. Nell'estate 2023, su Canale 5, tornerà Temptation Island, stando ad una voce di corridoio arrivata da dietro le quinte e riportata dal settimanale Chi. In edicola mercoledì 12 aprile, le coppie nate all'interno del grande fratello Vip7 sarebbero rimaste fuori dal cast. Pare che Maria De Filippi sia rimasta fedele al format del programma, ovvero quello di non inserire nel docu-reality show coppie formate da personaggi famosi. Nei giorni scorsi, si è parlato di una presunta partecipazione di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi a Temptation Island. A quanto pare la coppia chiamata dai fan Donnalisi non sarebbe presente nel cast del docu-reality di Canale 5. Ma non solo loro, anche gli Oriele, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e gli Incorvassi, Edoardo Tavassi e Nicolín Corvaia, sarebbero stati scartati dal programma. Secondo quanto riportato da una voce di corridoio, le coppie nate al grande fratello Vip7 non sarebbero gradite nel cast. Inoltre Maria De Filippi sarebbe voluta rimanere fedele al format, escludendo dal cast tutte le coppie formate da personaggi famosi. Al contrario, Filippo Bisciglia sarebbe stato confermato al timone del programma. L'esclusione da Temptation Island per le coppie nate al grande fratello Vip7 si aggiunge ad altri rumor. Stando alle voci di alcuni addetti ai lavori, Mediaset starebbe cercando di dimenticare l'ultima edizione delle reality show condotta da Alfonso Signorini. A Verissimo non è stato invitato nessuno dei sei finalisti, gli unici ex viponi ad essere stati invitati nel salotto di Silvia Toffanin sono stati Marco Bellavia, Carolina Marconi, Luca Salatino, Antonino Spinalbeise, Vilma Goic, Patrizia Rossetti e Giorgio Ciupilan. Al contrario, nessuno tra i concorrenti squalificati è stato intervistato da Toffanin. Nelle precedenti edizioni di Temptation Island, Maria De Filippi per i primi anni aveva creato un cast di solo coppie sconosciute. Successivamente aveva deciso di mescolare le coppie tra Vipenip come nell'edizione in cui è partecipato Natali Caldonazzo, Valeria Marini e Antonella Elia. In un'altra edizione invece, Maria De Filippi ha deciso di scindere le due versioni, Nip condotta da Filippo Bisciglia e Vip affidata a Simona Ventura. La nuova edizione sarà formata da coppie sconosciute al pubblico del piccolo schermo. Dunque, i fan delle coppie nate al Grande Fratello Vip 7 dovranno rassegnarsi. poiché non potranno vedere i propri benemini alle prese con i vari tentatori e le varie tentatrici. a cerco a a grazie a tutti